Buon inizio di settimana lunedì 9 di febbraio subito con la cronaca nel corso dei controlli del fine settimana mirati al contrasto dell'uso di stupefacenti soprattutto tra i minori gli agenti del commissariato di Senigallia hanno controllato e segnalato alla prefettura tre giovani di cui due minorenni trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish nel quartiere del vivere verde sempre di Senigallia invece un minore è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. Il presidente della regione Marche Gian Mario Spacca ha chiesto al governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza per il maltempo che ha devastato le Marche a partire dal pomeriggio del 4 di febbraio. Le lettere sono state inviate al presidente del consiglio dei ministri Renzi e al capo del dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri Franco Gabrielli. Il territorio marchigiano evidenzia il presidente Spacca è stato interessato da una straordinaria condizione di maltempo che ha provocato localizzate esondazioni di corsi d'acqua, allagamenti in aree urbane ed extraurbane, frane e interruzioni stradali soprattutto nella porzione costiera e collinare del territorio. Il perfetto funzionamento della macchina comunale nella difficile giornata del 6 di febbraio dimostra che quando esistono le condizioni per gestire le criticità dettate dal maltempo, le quali ci sono sempre state e sempre ci saranno, la città può convivere con il fiume e può fare affidamento su un'amministrazione comunale che ha sviluppato importanti competenze su questo terreno, tali da garantire la sicurezza dei cittadini. Così il sindaco di Senigallia Mangialardi, sulle operazioni svolte dal Comitato Operativo Comunale durante l'allerta meteo del 6 di febbraio. Quanto verificato si continua è la controprova di come l'alluvione del 3 di maggio scorso sia stata davvero un evento straordinario. Per questo è necessario che Regione Marchi e Provincia di Ancona completino quanto prima gli interventi di cui sono titolari, volti a mitigare il rischio di esondazione anche in situazioni eccezionali. Restiamo sul tema mareggiata e la pulizia della spiaggia. Il servizio. Passata l'emergenza della mareggiata di venerdì e sabato scorsi nella zona a sud di Senigallia dove ha provocato i maggiori danni, Enzo Monachesi, presidente del Consiglio Comunale e presidente Sibmar che fa una riflessione sui detriti depositati in spiaggia. Sotto i colpi di onde alte anche 4-5 metri i danni sono stati molteplici addirittura alle abitazioni. Oggi invece ci troviamo a constatare che i problemi non sono solo quelli diretti della mareggiata ma ci sono anche quelli indiretti cioè quelli del deposito di rifiuti organici di legna che è incredibilmente elevato nei numeri. Parliamo di migliaia, migliaia, centinaia di migliaia di tonnellate. È necessaria una riflessione perché questa legna che oggi deve smaltire il comune di Senigallia non è certo il prodotto esclusivo del suo territorio. è il prodotto di un territorio molto vasto che è quello che copre tutti i fiumi e tutti i torrenti della nostra area geografica che poi si depositano tutti qui. Poniamoci una questione se è giusto che questo costo incredibile di smaltimento e di operazioni per lo smaltimento siano tutti a carico dei comuni rivieraschi e in questo caso di Senigallia. Grande partecipazione all'appuntamento promosso dal comune di Senigallia in collaborazione con il centro per l'impiego per presentare le concrete opportunità offerte dal servizio civile e dalle altre misure previste dal programma europeo Garanzia Giovani. L'incontro si è svolto lo scorso giovedì 5 febbraio nella sede dell'Informa Giovani presso la biblioteca antonelliana presente anche l'assessore alle politiche giovanili Gennaro Campanile. Capecci gol, i rosso-blu sbancano Fossombrone e tornano in piena zona salvezza. Ci colleghiamo adesso con l'addetto stampa della Vigor Senigallia, Matteo Magnarelli. Grande vittoria ieri per la Vigor Senigallia, una vittoria per 1-0 in uno scontro che più diretto non si può in casa della Forza Empronese. Ancora una volta a decidere la partita è stato Capecci, il miglior marcatore di questa stagione che alla fine del primo tempo ha realizzato tra l'altro un gran bel gol a incrociare. Aveva colpito un palo pochi istanti prima, era stato espulso il portiere della Forza Empronese inizio gara dopo che si era volato verso la porta avversaria, quindi tre occasioni pulite nel primo tempo contro nessuna chance per la Forza Empronese. Il giovane Cantarini, di nuovo titolare fra i pali per l'infortunio di Giovanioli, non ha dovuto fare nell'arco della partita nessuna parata vera. Questo la dice Lunga sulle motivazioni, sulla prestazione della squadra che torna in piena zona salvezza, la settimana scorsa e sottolineo questo fatto perché è stata ovviamente una settimana calda dopo il forte comunicato stampa divulgato direttamente dal presidente Mandolini. Lui ha scritto quel comunicato e ha voluto che venisse diffuso per rispondere un po' a tutti quei commenti, a quella critica ritenuta sin troppo aspra nell'arco di tutta la stagione ma anche delle ultime stagioni nei confronti della Vigor. Quindi squadra caricata a mille che ha ottenuto tre punti che la portano quasi al centro della classifica. La zona play-out è lì sotto a un solo punto, però in questo momento sarebbe salva. Ci voleva perché si arrivava ad alcune sconfitte immeritate, l'avevamo detto la settimana scorsa e adesso vietato fermarsi. Insomma si recuperano diversi infortunati, mancava tanta gente. Ieri tanti ragazzi fra influenza e infortuni si dovrebbero recuperare il grosso degli assenti e mente al prossimo match con Grotta Mare che ha tre punti se non sbaglio più di noi e quindi si potrebbe veramente raggiungere una posizione di ulteriore, maggiore, tra virgolette, tranquillità. Grazie Matteo, con questo è tutto. L'appuntamento, come sapete, è per domani. Vi aspetto.